Nuova puntata per fare il consueto resoconto della giornata finanziaria, giornata molto interessante, due o tre notizie impreviste, una in Italia, una in Germania, quindi qua l'Europa la fa da padrone, non a caso, però sia il nostro Mib che in Europa i loestini non sono andati bene, il nostro Mib ha perso praticamente quasi l'1,50, il DAX più 1,10, perché parlo del DAX? Perché oggi è uscito il dato sull'inflazione tedesca e tutti si aspettavano un'inflazione che doveva essere intorno al 2,4%, quindi uno si poteva aspettare 2,5, un 2,3, un 2,6, è uscito a 2,8, Il che non dico che ha fatto andare in panico i mercati, anche perché bene o male ci si aspettava un aumento che potesse arrivare al 2,7, però di certo ha messo un po' di cattivo umore tutti i mercati europei, Il fatto sta che a giorni, il 6 di giugno, ci sarà la riunione della BCE, ma è abbastanza assodato che il taglio ci sarà, quindi direi che l'ultimo dei problemi, più che altro, Il problema potrebbero essere i tagli che sono previsti dopo, ma questo lo vedremo con il tempo Comunque, diciamo, secondo i dati della BCE dovrebbe arrivare costantemente sotto il 2% nel 2025 A me fanno sempre abbastanza ridere queste previsioni, visto che diciamo che generalmente quando fanno una riunione sia in America che in Europa Una delle cose che dicono è che stiamo guardando i dati e ci ricolleremo di conseguenza, quindi non so come vogliono fare la previsione per il 2025 Quando per tagliare i tassi dopo pochi mesi prendono i dati a breve termine per rendersi conto se è il caso di tagliare i tassi o no Altri dati, beh sicuramente in Italia le cose non vanno meglio perché se da una parte l'inflazione è sotto controllo Oggi è arrivata una notizia che ha messo in allarme un po' tutti i bancari perché Banca Montepaschi di Siena ha perso praticamente quasi 6% Perché si profila un nuovo procedimento sulla vicenda dei crediti deteriorati Il GIP Teresa De Pascale ha disposto l'imputazione coatta per 5 persone tra cui l'ex AD Marco Morelli e gli ex presidente Falciai e Stefano Bariatti Questo perché sono state date false comunicazioni sociali e c'è stata una manipolazione del mercato in merito ai bilanci del 2016 e 2017 Chiaramente qui parliamo di accuse molto gravi e quindi il titolo ne ha risentito secondo me nemmeno tanto Ecco anche perché diciamo che i conti di Banca Montepaschi di Siena ultimamente sembravano abbastanza sotto controllo E quindi sono tutte cose diciamo passate Fatto sta che il problema c'è e vedremo dove andrà a finire Ma dal mio punto di vista per come è la giustizia italiana andremo a finire alle calente greche Quindi non mi farei nessun tipo di problema sul breve termine Male anche Campari oltre a tutti i bancari STM, Prismian diciamo un po' malaccio tutta quanta la borsa Tra i migliori c'è sicuramente Diasorin ma Diasorin dà una vita che non riesce più a riprendersi E direi che la vedo difficile dopo il boom del covid Arrivare un po' a quei livelli lì a quei 200 euro la vedo proprio difficilotta E io fui uno di quelli che allora e sul forum chi mi segue è testimone Disse guardate che la vedo difficile che Diasorin possa fare meglio di come sta facendo adesso Le probabilità che vada meglio sono molto più basse di quelle che vada peggio Da allora il titolo non si è ripreso più praticamente quindi gliel'ho gufata pure un po' Ma diciamo che leggendo i bilanci mi sembrava tutto abbastanza chiaro Ho soffrito una di quelle aziende che ho soffrito secondo me molto l'ondata del covid in maniera positiva chiaramente E anche Unicredit male ma un po' ripeto tutti quanti i bancari Quando invece riguarda l'estero bene Marathon Oil nel settore energetico perché potrebbe fondersi con Coco Philips Con Conoco Philips e quindi potrebbe essere un bell'accordo che secondo me favorirebbe sicuramente quest'ultimo Non a caso Marathon Oil guadagna e Conoco Philips no Quindi mi pare abbastanza chiaro che ci potrebbe essere un accordo a fuori di una discapita dell'altra Un'altra brutta notizia secondo me è nell'ambito degli aerei qui dei viaggi Perché America Airlines ha abbassato le previsioni sul secondo trimestre Quindi warning profit come si suon dire e vede un utile nazione rettificato tra l'1 e l'1,15 dollari Prima il regge era tra l'1,15 e l'1,45 Quindi non un calo di poco Le stime tra l'altro erano pari a una mediana di 1,30 Quindi siamo molto molto più bassi rispetto sia alle stime precedenti sia alle stime degli analisti Andremo a vedere la situazione fatto sta che America Airlines è andata a perdere fino a quasi il 10% Poi credo che ha perso un po' di meno ma non ho seguito più Male anche AMD Male anche tutto quel settore lì E invece tipo Microchip Technology giusto per citarne una Bene Apple, benino direi Apple perché sta programmando di aprire il suo primo store in Malesia E questo è tutto in sintonia con i suoi piani di espansione in Africa Bene anche Robinhood ha avviato un programma di buyback del valore di un miliardo E questo direi che è sempre cosa buona e giusta per gli investitori Tra l'altro sale l'attesa invece per quanto riguarda l'ambito obbligazionale Perché ci sono un'asta di 44 miliardi di dollari di treasury a 7 anni Ieri diciamo che il mercato è stato un po' freddo E vedremo anche qui come andrà a finire Chiaramente i rendimenti dei bond sono saliti Adesso i treasury a 10 anni trattano a 4,60 E quindi sarà interessante vedere un po' anche gli investitori Cosa ne pensano e cosa faranno soprattutto Per quanto riguarda i treasury Per il resto poco da sottolineare E quindi la possiamo chiudere qua Ragazzi a me non resta che ricordarvi come al solito Di dare un'occhiata al sito giuseppecioscia.com E soprattutto di ricordarvi che siete sempre sotto il fuoco nemico Grazie a tutti Grazie a tutti